Mi ritorni in mente Le telefonate, ore ad aspettare Poi mi dà il cubato perché chiami anche tu Bolle di sapone sotto il tuo balcone E mi piace tanto, tanto quando mi annoi e tu mi fai La disco Paradise Rieccoci pubblico di Miss Italia Calabria Questa sera altra selezione provinciale E leggeremo Miss Palio Siamo a Bisignano in una piazza strepitosa Enorme, bellissima Il clima è fresco, si può vedere dalla maglietta Quindi una serata perfetta Rimanete con noi per scoprire Chi sarà la nostra Miss Palio 2023 Spenderemo Miss Palio Grazie a tutti 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 Allora come sta andando questo percorso? Vediamo un attimino perché so che qualcuno forse ha già avuto a che fare con lui e con quello che insomma lui vi propone. Chi si propone di dire qualcosa? Nessuno. Zari dai vengo da te che tu ormai sei la veterana. Come sta andando? Bene bene, mi piace molto ascoltarlo a lui. Ti mette un po' di calma, di tranquillità? Sì, lui sì. Bene, di poche parole sintetica però ricordiamo che stasera eleggeremo Miss Palio e quindi ragazze in bocca al lupo a tutte. Corre l'anno 1939 e nasce un concorso fotografico dal titolo 5000 lire per un sorriso. Tutto parte dalla pubblicità ad un dentifricio per arrivare ad eleggere Miss Sorriso. Un sorriso che diventerà famoso in tutte le città. Ciao, ciao, ciao. Come sta? Ehi, guarda questo, guarda questo. Ragazze, scusate il ritardo, ma come sei vestita bene. Grazie. Ma avete sentito? Cosa? Sarà un concorso di bellezza e leggeranno Miss Sorriso. Ma davvero? Ma secondo voi posso andare bene? Ma c'è. Sei la solita sciocca, Adele. E allora corriamo a vedere di che cosa si tratta. 5.000 lire per un sorriso che diventerà famoso in tutte le città. 5.000 lire che è il paradiso del musetto delizioso che lo vincerà. Ehi, dove vai? Tu non cambi mai. Il tuo sorriso fa rumore tra un miliardo di parole. Il tuo viso è armonia, sei la perfezione. Nel tuo modo di apparire così acqua e sapone. Ehi, dove vai? Non rispondi mai. Cammini piano tra la gente. Te confondi senza chiedere niente. Io guardi senza dire e fare mai niente. Sei tu che porti a spasso il sorriso delle donne. Che fiori a volte un giorno e spesso come un giorno. Che a volte sembra indeterminabile. Ma benedetta questa donna, eh. Che ama allora di te sono come te. 5.000 lire 5.000 lire 5.000 lire 5.000 lire 5.000 lire Miss come stai? Non guardi mai. Ma quante lettere che hai scritto? Spedite non le hai mai nella tua stanza che si prende in sogno tuoi. Ma tu non sai che dentro un gesto indifferente il tuo sorriso è così grande. Cammina piano tra la gente senza chiedere niente. E io da sola assente cerco un verbo al presente. Per dirti che sei importante, molto importante. In questa vita scintillante, illuminante. Che cambia a volte un giorno, che spesso cambia un giorno. Che a volte sembra indeterminabile. Ma sante bene potte queste donne che... Che amano la vita e sono come te. 5.000 lire 5.000 lire E se ti fermi, mi guardi, sorprendi, mi accendi e cerchi poi consensi nei tuoi mille gesti lenti. Mi incanti, sai, mi incanti ormai come un'eclissi in un giorno pieno di sole. I tuoi silenzi, poi i tuoi silenzi ormai fanno rumore. Miliardi su miliardi di parole sono assente. E cerco ancora un verbo al presente. Con il tuo sorriso stampato nella mente. 5.000 lire per un sorriso stampato nella mente. 5.000 lire per un sorriso Buonasera, buonasera a Pitegnano e benvenuti in questa nuova selezione provinciale di Miss Italia Calabria Grazie, che cavaliere stasera si è ricordato, grazie mille Buonasera ancora e benvenuti a Miss Palio 2023 Ringraziamo tutte le nostre ragazze che questa sera si contenderanno l'ennesima fascia Grazie ragazze, in bocca al lupo a tutte, potete accomodarvi dietro Ringraziamo il corpo di ballo di Lia Molinaro, Lia che è presente da qualche parte Grazie per essere sempre con noi al timone dei nostri ballerini e della parte coreografica Ringraziamo i nostri ballerini e quindi Alessia Mandoliti che da quest'anno è assistente coreografa Maria Elena Tucci, stasera l'ho detto giusto, vero? Poi Niccolo Pacenza e Bernadette Molinaro, grazie mille ragazzi Ringraziamo anche il pianeta della danza di Isabella Sisca che ha concesso i suoi spazi per le prove del nostro corpo di ballo che quest'anno compirà 50 anni di attività quindi un prestigiosissimo traguardo Prima di iniziare, buonasera giurati, scusatemi, buonasera giurati Prima di iniziare però, noi piace sempre raccontare a tutti quelli che ci seguono da casa che ci seguono sui social, un po' raccontare dei borghi, dei posti, dei paesi meravigliosi che grazie alla Kermess di Miss Italia Calabria noi possiamo visitare dal vivo Questa sera siamo appunto a Bisignano che è un borgo della Presila Greca noto per il Palio del Principe che si tiene la terza domenica di giugno che è di rievocazione medievale e invece poi l'ultima domenica di giugno abbiamo la giostra è famosa anche per essere la città natale di Sant'Umile parliamo invece però un po' in modo più approfondito proprio del Palio che è un tradizionale corteo cinquecentesco che si svolge per le vie cittadine il corteo richiama visitatori da tutta la Calabria, dalla regione, insomma anche da fuori Calabria mi è giunta voce, sin dal 1400 si ripete la traduzione rendendo viva e partecipativa tutta la cittadina e insomma questo bellissimo posto Bisignano è noto anche per essere la città natale appunto di Sant'Umile le sue origini risalgono agli avvori della storia il capoluogo fu anche il capoluogo di stato di Bisignano una delle maggiori città della Calabria l'interesse si segnala quindi da visitare noi lo diciamo a tutti quelli che ci stanno seguendo appunto per richiamare un po' tutti a visitare questo splendido posto il santuario di Sant'Umile, il Duomo, la chiesa di San Bartolomeo e tantissimi altri luoghi di interesse e poi Bisignano ricade nell'area di produzione dell'olio extravergine d'oliva Bruzio, DOP, Valle Crati quindi grazie a Bisignano per questa splendida accoglienza di stasera e appunto ringraziamo per l'ospitalità tutta l'amministrazione comunale il sindaco Francesco Fucile siete tutti dislocati adesso vi devo inquadrare dove siamo buonasera e grazie poi abbiamo il vice sindaco Isabella Cairo Luca Antonio Turco, assessore Federica Paterno, presidente del consiglio e il ringraziamento particolarissimo va all'assessore Francesco Chiaravalle che ci ha supportato per la manifestazione di questa sera grazie mille, grazie a tutti prima di iniziare è doveroso oddio c'è un buco quindi mi sposto è doveroso portare i saluti della patron Patrizia Merigliani che dice così cari amici è un piacere poter festeggiare con voi l'84esima edizione di Miss Italia un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie al vostro entusiasmo e alla vostra partecipazione nello show di Miss Italia siamo coinvolti tutti le ragazze, le loro famiglie e tutti quelli che hanno fatto parte e fanno parte ancora oggi della nostra meravigliosa storia insomma Miss Italia siamo noi se vi sentite Miss, Miss Italia vi aspetta per realizzare i vostri sogni e per iscrivervi andate sul sito www.missitalia.it dove troverete anche tutte le curiosità riguardanti il concorso seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter ed Instagram con delle grandissime navità allora pronti a gioire della grande bellezza quindi grazie a Patrizia Merigliani che tutte le sere ci forge i suoi saluti questo sarebbe stato il momento dell'ingresso della mia partner la mia partner in crime ci piace chiamarci Linda Suriano che non è presente al quale però io chiedo di rivolgere un grande applauso perché dietro le quinte piccolo problemino di voce perché praticamente dal 28 giugno che non si ferma nemmeno una sera quindi grazie per il sostegno perché comunque sempre qui con noi ma noi andiamo avanti ugualmente questo è il momento, quello importantissimo di tirar fuori tutti i telefonini e perché arriva il video alle mie spalle, il contributo andate tutti sulla pagina su Facebook credo che lo abbiate praticamente quasi tutti ormai sulla pagina di Miss Italia Calabria seguire la pagina e poi andiamo in basso troverete la nostra diretta basta cliccare il tasto condividi e condividerla sui social così anche tutti quelli che questa sera non sono presenti potranno godere però insieme a noi in diretta di questa serata ringraziamo anche Tele Europa Network che è la nostra emittente ufficiale che ci insomma ripropone le nostre tappe in replica tutti i giorni e anche Ionica Radio, radio ufficiale del concorso quindi grazie a tutti e adesso è il momento di presentare ufficialmente chi stasera eleggerà la nostra Miss Palio quindi io parto dalla destra e appunto saluto nuovamente il sindaco Francesco Fucile buonasera può prendere il microfono ci siamo buonasera grazie mille per questa splendida accoglienza io mi vergogno un po' a dirlo ma è la prima volta che vengo a Bisignano questa piazza è favolosa quindi ci siamo trovati benissimo il posto è meraviglioso ripeto ancora una volta grazie per l'accoglienza stasera sarà presidente di giuria quindi è un compito importante ci parli un po' di che cosa stiamo facendo per Bisignano che cosa possiamo vedere in questi giorni so che insomma il Palio è il momento fulcro delle manifestazioni qui intanto è l'occasione per rivenire a Bisignano perché questa sera la vedi di notte ma Bisignano è bellissima anche di giorno se mi consenti posso ampliare quello che tu bene hai detto all'inizio a Bisignano c'è tanto da vedere ci sono i Vasai ci sono i Lutai siamo famosi anche per il vino per il fico dotato sono tutti prodotti doc per il broccolo di Bisignano e poi c'è tanta storia tanta arte tanta cultura la chiesa cattedrale noi siamo arci di Ocisi di Cosenza Bisignano la chiesa cattedrale che addirittura risale ai primi del decimo secolo la di Ocisi è del 744 Sant'Umile già l'hai citato c'è un bellissimo chiostro del 1222 quindi sono 800 anni di presenza francescana e nella bellezza tra le bellezze che vedremo oggi ecco il contesto è davvero appropriato perché ci troviamo in uno dei centri più importanti non della provincia di Cosenza della Calabria per la storia per la cultura per tutto ciò che il passato ci ricorda ma non deve essere soltanto un passato di memoria ma è presente soprattutto futuro dal prossimo dicembre in poi oltre al museo della Liuteria potremo assistere, vedere, ammirare anche il museo a cielo aperto per quanto riguarda i Vasai la bellissima piazza della collina Castello che è un balcone che si affaccia sulla Valle del Crati la Valle del Crati sappiamo è la pianura più grande più importante della Calabria attraversata dal fiume più importante che il Crati e da Visingano ecco che si trova proprio al centro della media Valle del Crati c'è la possibilità non soltanto di visitare i luoghi di Visingano ma nel giro di 40-50 minuti di raggiungere sia il Tirreno lo Ionio e anche la Sila per cui venire a Visingano è una serie di opportunità esatto esatto e noi vi ringraziamo per averci le offerte grazie per la presenza siamo orgogliosi e felici di ricevere questa seconda manifestazione grazie di Visingano di Miss Italia e che venga la più bella alla migliore benissimo l'assessore Francesco Chiaravalle buonasera grazie anche a lei per l'accoglienza so che lei si è speso molto per questa serata ma sì infatti Carmelo è sempre abbastanza che ti spinge a fare le cose intanto lo voglio ringraziare pubblicamente per questo secondo anno che ha voluto che questa manifestazione venisse anche qui a Visingano ci tenevo a ringraziare anche la collega Isabella Cairo che è assessore condelega allo spettacolo che ha permesso che questa manifestazione andrasse anche nella nella Kermess estiva delle nostre delle nostre serate che dire come parlare dopo il sindaco è sempre un po' è problematico è problematico ecco perché dice tante cose ha detto tantissimo quindi è inutile aggiungere altro posso fare solo gli auguri alle miss e che venga la migliore la più bella benissimo e poi ancora Francesco Pappaterra fondatore della start-up MacMind insomma ha aiutato le nostre ragazze in un lunghissimo percorso ne parleremo più tardi perché abbiamo un bel po' da raccontare grazie ancora per la sua presenza Stefania Spadafora imprenditrice digitale buonasera Federica Paterno presidente del consiglio buonasera grazie anche a lei e infine sempre il nostro Giuseppe Pirillo per Framesi di cui parleremo più tardi alla mia sinistra Luca Antonio Turco buonasera io vi inquadro piano piano assessora anche lei Isabella Cairo vice sindaco buonasera prendiamo il microfono perché stasera buonasera a tutti anche lei insomma un compito importante buonasera a tutti e benvenuti nella nostra città è sempre bellissimo avervi qua è la seconda il secondo anno questo effettivamente un Carmela Ambrogio ci ha proposto questa cosa per la seconda volta ma Francesco ci tiene particolarmente io sono stata molto contenta di averli inserito nel palinzesto estivo perché effettivamente è una serata all'insegna della bellezza e non solo anche di bei valori e di belle emozioni quindi noi siamo tanto tanto contenti anche perché è anche un modo per portare avanti il nome di Bisignano sicuramente avrete modo di visitarlo anche in altre occasioni di capire che quanto questa città può dare bene lei sarà il nostro segretario di giuria quindi ufficialmente anche lei ha un ruolo importantissimo e poi ancora abbiamo Maria Locco stilista buonasera ben trovata Moira De Pietro imprenditrice digitale Massimo Maneggio direttore di Bisignano in rete Francesco Altamura imprenditore grazie a tutti i nostri giurati e allora avete visto dall'inizio che quest'anno Miss Italia Calabria vuole offrirci un viaggio un viaggio che è il racconto di questo concorso dagli albori fino ai nostri giorni e noi vi lasciamo con un altro video a tutti i nostri giurati a tutti i nostri giurati avete sentito ci sarà di nuovo il concorso di bellezza che bello ragazze finalmente un po' di leggerezza ma possiamo partecipare tutti? quelle sposate no ecco lo sapevo io sono tagliata fuori allora io si invece ma c'è un'altra novità non si chiamerà più 5.000 lire per un sorriso come? Miss Italia Miss Italia e questo è uno dei tanti contributi che vedremo stasera appunto il percorso il lungo viaggio del concorso della storia di Miss Italia noi per questo dobbiamo ringraziare non solo le ragazze che si sono prestate ma anche Francesca Marchese che ha curato appunto la recitazione di queste ragazze tutto ciò fa parte di un progetto molto più grande curato dalla Carly Fashion Agency che è appunto un'accademia un'accademia dove si parla di arte a 360 gradi quindi ci sono corsi di portamento di recitazione di dizione queste ragazze per la prima volta si sono messe in gioco quindi il nostro ringraziamento il nostro applauso va a loro e alla Carly Fashion Agency insomma che cerca in tutti i modi di indirizzare di formare le ragazze preparandole al mondo dello spettacolo ora siamo quasi al primo momento importantissimo della serata spieghiamo un po' a tutti che cosa accadrà insomma durante questa serata lo spieghiamo ai giurati lo spieghiamo a voi e al pubblico vedremo le ragazze in due uscite la prima in abito elegante la seconda in costume istituzionale in questa prima uscita potrete prendere degli appunti insomma capire se c'è qualcosa che vi piace particolarmente di queste ragazze ma è nella seconda uscita che è obbligatorio esprimere la propria preferenza e il proprio voto i voti saranno da 1 a 5 per ciascuna delle nostre ragazze nella seconda uscita avranno appunto 30 secondi per presentarsi farsi conoscere o far vedere ai nostri giurati e a voi pubblico una delle loro abilità tutto chiaro? tutto chiaro? e allora io mi sposto vado in postazione e cominciamo con la numero 1 Barbara prezioso 21 anni lavora come commessa ed è attualmente una studentessa le piace fare sport e prendersi cura delle persone grazie a tutti ma ciao bellissima Numero 2, Sara Penna, 18 anni, studia biotecnologie sanitarie e i suoi hobby, viaggiare e prendersi cura di se stessa. Numero 3, Alessandra Magrone, 24 anni, lavora come ballerina e i suoi hobby sono il ballo, il canto e la recitazione. Numero 3, Alessandra Magrone, 24 anni, lavora come ballerina e i suoi hobby, viaggiare e prendersi cura di se stessa. Anna Croccia, numero 4, 22 anni, una casalinga, mamma di due bambini, i suoi hobby sono il canto e la musica. Anna Croccia, numero 4, 22 anni, lavora come ballerina e i suoi hobby, viaggiare e prendersi cura di se stessa. Numero 5, Sara Ippolito, 18 anni, appena diplomata al liceo scientifico e i suoi hobby, andare in palestra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Numero 6, Felice Battaglia, 22 anni, studia scienze motori, i suoi hobby, sfilare, fare danza e palestra. Grazie a tutti. 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 Numero 7, Maria Serena Fiore, 19 anni, appena diplomata al chimico sanitario e su hobby e la palestra. Numero 12, Giulia Ongia, 18 anni, frequenta liceo scientifico, lavora come ballerina e animatrice, la danza è la sua più grande passione. Numero 13, Elena Cucunato, 19 anni, estetista da quasi due anni, in un centro estetico, le piace molto fotografare, cucinare e leggere. Numero 14, Deborah Mangiola, 29 anni, studia e lavora come modella, le piace molto fare sport e leggere. Numero 14, Giulia Ongia, 18 anni, studia e lavora come modella, le piace molto fare sport e leggere. Lunga, quindi invece del nostro serpentone finale, le 14 ragazze faranno il nostro serpentino finale, prego. Eccole qua che rientrano, ritornano dietro le quinte e andranno a prepararsi per quella che sarà la loro seconda uscita in costume istituzionale, ovviamente come ricordavo prima, poi avranno 30 secondi di tempo a testa per esprimere quelle che saranno le loro passioni principali oppure vorranno esprimere dei pensieri o del, non lo so, potrebbero anche ballare per voi e per il pubblico questa sera convenuto qui. Allora ci sono delle ragazze che hanno già passato le fasi provinciali, sono arrivate alle finali regionali che pian piano si stanno tenendo nella nostra regione e conquistando appunto la fascia di finalista regionale si accede anche alle prefinali nazionali. E' una cosa molto importante, quindi ci sono diversi gradi tra virgolette per prodare quelle che saranno le finali nazionali. A proposito voglio ricordarvi che la nostra finalissima, quella di Miss, dove eleggeremo Miss Calabria 2023, sarà il prossimo 26 di agosto a Oriolo dove avremo anche degli ospiti importantissimi. Ci verrà a trovare Elisabetta Gregoraci che sarà la nostra madrina, ci sarà anche Marco Masini e tante, 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 tante altre sorprese che ovviamente sveleremo pian piano nel tempo. Quindi se volete venirci a trovare potete tranquillamente farlo giorno 26 a Oriolo. E allora come dicevo ci sono state già delle ragazze che si sono classificate e ce n'è una in particolare che questa sera ci è venuta a trovare e lei lo fa molto spesso. E allora andiamo a salutare Miss Magna Grecia 2023, Zari Mastruzzo. Ciao Zari, ho notato che tu sei andato a dritto al pubblico però non sei andato dai giurati perché ovviamente questa sera non partecipi, non sei in gara. Allora io ti conosco ormai da un po' di tempo insieme a tutta l'organizzazione perché questa non è la prima volta che tu hai partecipato. L'anno scorso ti sei classificata ugualmente vincendo la fascia di Miss Valle dell'Esaro, sei arrivata alle prefinale nazionali, sei arrivata al terzo posto e ti sono state date delle fasce oltre a quella dei terzi classificati anche quella di Miss Coraggio 2022. E invece quest'anno hai conquistato questa di Miss Magna Grecia Calabria in quel di... Vediamo se ti ricordi... Dove l'hai vinta questa fascia qui? Oddio... Hai già rimosso tutto? E' vero, eri a Ciro. No perché dovete sapere che lei viene da tutte le parti, viene da tutte le parti e quindi ogni tanto non si ricorda più dov'è. No, è così più o meno. Allora parliamo d'altro. Io di solito faccio sempre la domanda classica, canonica, come ti senti, come ti... Invece voglio parlare di altre cose con te, se posso? Certo. Allora, anche perché dicevo, conoscendoti bene, so che tu sei anche bravissima a cucinare, è vero questa cosa? Sì. E il tuo piatto, quello che ti esce meglio qual è? La lasagna. La lasagna. Ah, capito? Avete cenato voi questa sera? Tutti, eh? Allora io invece no. Ma com'è? Sono curioso. Come la fai con... Molto semplice, perché le cose pesanti non mi piacciono. Non ti piacciono, ma la pasta sfoglia la fai tu? La pasta sfoglia. No, non la compro, quella no. Eh, poi vedi, già ci perdiamo un pochettino. Ci vogliono le... è vero, la signora Rida è giusto. La pasta sfoglia bisogna farla con le uova. Non al macchinario. Non al macchinario. Ci vuole un po' di olio di gomito. E poi? Cosa ci metti? Ragù, sugo, beciamella. Beciamella. Tutti un po' a posto. Basta. La servire in tavolo. Quanto la fai cuocere? Abbastanza. Sembra invece di Miss Italia, sembra Masterchef. Allora, a parte questo, ma ovviamente siamo tutti contenti anche che tu cucini, perché insomma la maggior parte degli uomini e anche delle donne... Non sanno cucinare. Ma neanche nuovo fritto. Aspetta che facciamo un sondaggio, aspetta. Di qua. Giuseppe. Giuseppe Pirillo. Tu sei cucinare? Il microfono. Penso meno di lei. Come? Penso meno di lei. Meno di lei. Allora, qual è il tuo piatto che ti viene meglio? Adoro fare gli gnocchi. Gli gnocchi? Sì, sì. E' bravo, è bravo. Tutti i primi piatti? Assolutamente sì, sono bravo. I primi piatti sì, i secondi assolutamente no. Ah, secondi no. Il sindaco sa cucinare? Se la cava? Aspetta che lo accendiamo. Ho detto quando è necessario. Il suo piatto, quello che gli viene meglio? Ma guarda, sembra una ripetizione, ma pure io sono per i primi piatti. Pure per i primi, i primi vengono bene a tutti. Allora, chi è che fa bene i secondi qua? Francesca? Eh? Anche lei sui primi qui? Parmigiana, melanzane. Melanzane. Siamo in Calabria. È vero, hai ragione, tutti i piatti leggeri poi alla fine. Questi sono anche i piatti che... Sono piatti mediterranei. Mediterranei, ecco, hai capito? Tu la sei fare la parmigiana? No, non mi piace. Non ti piace, va bene, va bene. Senti, allora, ti prepari bene a queste finali adesso? Benissimo. Benissimo. Andrei a cucinare dietro le guinte per tutte le tue. Qual è? Per adesso mi tengo a dieta. A dieta. Poi si vedrà. Ecco, sfatiamo anche il mito delle miss che non mangiano niente perché non ci credete a questa cosa perché tutte le sere, ragazzi... Io mangio sempre. Eh, lo so, appunto. Va bene. Comunque, grazie per essere venuta qui, poi ci aiuterai nelle premiazioni finali. Facciamo un applauso ancora a Zari Mastruzzo. Ciao, Zari. E allora facciamo due chiacchiere, facciamo due chiacchiere con i nostri giurati. Adesso parliamo un po' in qualche istante, insomma, di quello che è la prima impressione delle ragazze. Virginia Arcuri, che è Presidente della Proloco, io la ringrazio a nome anche del Sindaco che sicuramente poi lo farà, e a nome di tutti i sindaci che hanno quella possibilità di collaborare con le associazioni, perché è una dote importante e soprattutto determinante per un buon proseguo, no? Sì, 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 sì. Per me è un piacere essere qui, ringrazio l'amministrazione per avermi coinvolta. Ci sono tante belle ragazze, quindi è davvero difficile. Ne ha già vista qualcuna che possa interessarla, almeno al primo occhitto? Sì, 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 ho già segnato qualche ragazza. Qualche ragazza. Poi magari quando le conosceremo un po' meglio vedremo se questa... Allora, la signora Barbieri, eccoci qua, stessa domanda anche per lei, se ha trovato qualche ragazza già interessante con qualche... Ce ne sono tre interessanti, sì. Qual è l'aspetto, senza specificare, appunto, né il numero ovviamente, né di quale ragazza stiamo parlando, se sono stati lo stile, non so, per il portamento, l'eleganza, il coro dei capelli, non so. L'eleganza, lo stile. L'eleganza, sì. Ok, quindi è una cosa che colpisce dal primo punto di vista. Allora, da questa parte verrò fra un po', andiamo a ringraziare invece subito i nostri partner nazionali come Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligo-minerale Rocchetta perché idrata la pelle da dentro, mettete pure all'organismo, super leggera, aiuta a rigenerare le cellule della pelle, appare più luminosa Rocchetta da sempre, l'acqua della salute e l'acqua di Miss Italia della bellezza. Miluna gioielli, sono tesori di famiglia da tramandare perché gioielli di valore con un design classico e senza tempo, sono regali perfetti che fanno felice chi regala e chi li riceve. Ovviamente il sogno di bellezza che Miluna va a regalare è come quello di diventare anche Miss Italia e indossare la preziosa corona di diamanti creata appunto da Miluna. Givova, le meravigliose ragazze del concorso indosseranno abbigliamento sportivo ricercato e di tendenza adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova lo sport incontra la bellezza per esprimere i valori sani e positivi che abbracciano il più alto concetto di benessere. Poi ancora salutiamo Framesi che è la multinazionale italiana che da più di 75 anni si dedica alla ricerca e allo sviluppo di prodotti professionali per la bellezza e il benessere dei capelli ma anche collezioni di moda che portano la bellezza made in Italy in giro per il mondo. Questa sera come tutte le sere abbiamo degli amici che ci seguono oltre a Giuseppe in giro per la nostra bella regione e questa sera ci siamo venuti a trovare e a lavorare anche per noi e per le nostre ragazze l'Art Style Beauty Salon di Santina Fassari di Nicotera a Vibo Valencia in via Barriera. Quindi facciamo un bel applauso perché fanno tanti chilometri insieme a noi. Ed è importante anche ringraziare e salutarli, li vedremo poi per quanto riguarda la terza classificata verranno a premiare anche con la fascia. Dottor Klein dalla ricerca scientifica e dall'esperienza del chirurgo plastico israeliano, dottor Dov Klein, 15 anni fa nasceva questa linea di prodotti innovativi e l'avanguardia per la bellezza e la cura della pelle, si tratta di trattamenti intensivi e sono la risposta della scienza per una pelle sana, bella e luminosa. Grazie a tutti loro. Nel nostro percorso di Miss Italia Calabria tutte le sere abbiamo modo anche di ricordare degli argomenti importantissimi che riguardano un po' tutti. La nostra sicurezza, la sicurezza che per le strade, per il nostro percorso con le automobili è sempre un po' così particolare e soprattutto anche impervia quando noi utilizziamo troppo spesso magari il cellulare. Ci distraiamo alla guida e possiamo provocare appunto degli incidenti così come quando qualcuno magari beve troppo o quant'altro insomma e si arriva a determinati momenti molto molto spiacevoli. Abbiamo un video da vedere insieme e dopo faremo anche il nostro appello. La vita è fatta di scelte e strade da percorrere, alcune ha anche luminose, altre strette e insidiose, ma non esistono solo strade pericolose. Pericoloso è anche chi guida senza rispettare le regole. Io non guido, ma tu lasciati guidare dal buon senso. E questo è anche l'appello della nostra Miss Italia, Lavini Abate, ovvero fermare le stragi sulle nostre strade che è una battaglia di civiltà. Anche voi tutti possiamo fare la nostra parte, prendete il cellulare solo in questa occasione, registrate un video mentre diciamo tutti quanti insieme, lasciati guidare dal buon senso. Postatelo sui vostri profili social taggando Miss Italia e il Meet, è un piccolo gesto che però effettivamente può fare la differenza. E se alla fine avremo avuto modo di salvare solo una vita e questa sera una ragazza o un ragazzo potrà ritornare dalle proprie famiglie e riabbracciare appunto la propria famiglia, allora ne sarà valsa la pena. Grazie di cuore a tutti. Messaggio importantissimo, com'è importante anche la nostra strada, il nostro percorso di Miss Italia che da 84 anni ci segue e che racconta le storie di tutte le ragazze di tutte le regioni d'Italia. Ne guardiamo un altro pezzo insieme. Via! Musica Monda nel cielo di maggio, comunque maggio, zolanda Monda la non mi viaggio ed il storaggio ci manda Questo paesaggio che... Nei primi anni del concorso, le concorrenti sfilavano in costume da bagno e abito da sera Si evidenziava così ogni silhouette È il 1950, lo spettacolo va in onda alla radio Ma è anche l'anno di Sofia Scicolone, meglio conosciuta come Sofia Loren Sarà eletta Miss Eleganza Protagonista del 1950, un'altra Miss, Gina Lollobrigida Protagonista del film Miss Italia Ragazze, anche se abbiamo fatto la fila di un'ora, chi se ne importa per vedere lei? Che bella, che sogno, vorrei tanto essere come lei Che bella Ragazze, ragazze, anche Miss Italia apre le porte al cinema Addirittura al cinema E già, la passerella di Miss Italia è un trampolino di lancio, anche per il grande schermo Volete dire che posso diventare un'attruccia famosa? Ma certo Questo sì, che è un sogno Che sogno Che bella, che bella, che bella, che bella Che bella, che bella, che bella Che bella, che bella, che bella, che bella 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 Che bella, 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 che Questa canzone che io ripeto ogni qualvolta scendo con questa atmosfera bellissima, particolare, poi con le coreografie di Liam Orenaro acquisisce anche una magia particolare, un'eleganza particolare. Volevo salutare anche il vice sindaco Domenico Martire, anche il consigliere Riccardo Borrelli per averci voluti insieme ovviamente al sindaco e tutta l'amministrazione, lo ripeterò per tutta la serata. Ringraziamo ulteriormente anche la regione Calabria per quello che è il contributo della legge 13 Calabria straordinaria. Straordinaria come anche le nostre ragazze che sono dietro le quinte e fra poco arriveranno qui sul palco per farsi conoscere ancora un po' di più, emozionate perché sono anche molto emozionate nonostante le tappe siano numerose, però io le seguo dietro le quinte e devo dire che sono anche con quell'ansia giusta, con quell'adrenalina giusta per prepararsi e far bella figura di fronte ai giurati, soprattutto che esprimeranno anche il loro voto fra poco. Andiamo a salutare i nostri partner regionali da Egea Global Service, società multiservizi che opera a livello nazionale e internazionale per offrire aziende e privati una gamma di servizi integrati, ristorazione e sanificazione, pulizia, agenzie viaggi, noleggio auto e pullman. Poi ancora Carlo Magno SRL, la concessionaria che serve con passione le aree di Corigliano Calabro, Policoro, Rende Trebisace e offre una ricercata selezione di veicoli Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia. E poi abbiamo anche Caffo, vecchio amaro del capo, prodotto simbolo della distilleria Caffo, composto da 29 erbe di Calabria che racchiudono tanti principi benefici, frutto di un'antica ricetta calabrese, poi rielaborata e migliorata dalle quattro generazioni della famiglia Caffo. Allora, prima di arrivare al palcoscenico nuovamente, facciamo ancora un salto nel tempo con quest'altra pillola di Miss Italia insieme a tutti noi. Nel 1959 Miss Italia cambia direzione, Dino Villani esce di scena e da quell'anno inizia la lunga permanenza di Enzo Mirigliani. Il 2 settembre 1979 Miss Italia veniva trasmesso in televisione. Cinzia Fior de Ponti vince il titolo di Miss Italia 1979 alla bussola di Viareggio. Ragazze, ragazze, venite! Cosa urli? Siamo in un supermercato. Scusate, stasera tutto a casa mia. Che si festeggia? Non mi dire che è il tuo compleanno e l'ho dimenticato? Ma no! Ecco, tu sempre con la testa tra le nuvole. Stasera Miss Italia in televisione! Davvero? Sì! Ragazze, vi aspetto, non mancate, soprattutto puntuali. Non vorrete interromperci lo spettacolo. E anche noi, fra non molto, speriamo di poterci mettere nuovamente di fronte a una televisione come si faceva storicamente e fare il tifo per la nostra Miss preferita. Quanti di voi lo hanno fatto? Quanti si radunavano a casa per la trasmissione che andava sulla Rai? Ovviamente, prima si passava, se non me ne sbaglio, erano 100 all'inizio, poi 80, 60, no, poi di meno, insomma, un po' di meno. C'era anche Francesco Adamo, che è il nostro tecnico, che era lì a segnare i numeri, insomma, era già lì anche lui. Adesso, scherzi a parte, bisogna diventare nuovamente seri, come siamo stati, fondamentalmente lo siamo stati, però bisogna tornare nuovamente seri perché le ragazze scenderanno in passerella, sul nostro palco, in due gruppi, sono 14, faremo due gruppi da 7, le conosceremo per 30 secondi ciascuna e voi, in quel caso, dovrete appunto siglare definitivamente quello che è il voto che volete attribuire. Alla fine delle 14 ragazze, il nostro sindaco e da quest'altra parte, la nostra Virginia Alcuri, che è, ah, scusate, il nostro Giuseppe Pirillo, che è il nostro segretario di giuria, raccoglieranno le schede e potranno recarsi dietro le quinte per effettuare i voti. E allora, cominciamo con le prime sette ragazze, le conosciamo ancora meglio, ripartiamo dalla numero 1, sempre 18 anni per lei, Sara Penna. Lei vorrebbe affermarsi nel mondo della moda e il suo motto è «Non importa quanto lo specchio mi sia amico, poiché la purezza d'animo la fa la vera bellezza». Numero 2, Elisa Novello, lei vorrebbe creare una linea di cosmetici, mentre il suo motto è «Costruisci la tua strada e segui la tua direzione». «Costruisci la tua strada e segui la tua strada e segui la tua direzione». «La numero 3 è Chiara Corrente, lei vorrebbe entrare nel mondo della TV e il suo motto si racchiude in una parola, forza!» Numero 4, Barbara Prezioso, 21 anni, vorrebbe realizzarsi professionalmente e il suo motto è «Mai perdere il sorriso». Numero 5, Felicia Battaglia. 22 anni, vorrebbe diventare una modella come il suo sogno, mentre il suo motto è «La vita va vissuta come un gioco». numero 6, Francesca Desiree Romano, lei vorrebbe diventare una cantante modella, mentre il suo motto è «Si gentile e abbi coraggio». ultima concorrente di questo primo gruppo è la numero 7, ovvero Luana Vinci, e lei vorrebbe diventare una cantante e il suo motto è «Ricordati di osare sempre». bene, adesso avremo 30 secondi per ognuna di loro, vi ricordo che voi pubblico, seguendo la nostra diretta nei commenti, diretta Facebook nei commenti potrete scrivere anche quella che è la vostra miss preferita. Allora riprendiamo dalla numero 1 però, per i suoi primi 30 secondi, lei è Sara Penna e ci ha un monologo, mi sembra tratto dall'ultimo film di Barbie. Prego. «E' letteralmente impossibile essere magra, devi essere magra, ma non troppo magra, devi dire che vuoi essere sana, ma non devi essere magra, devi dire che vuoi essere magra, devi comandare, ma non puoi schiacciare le idee degli altri, devi adorare essere una madre, ma non puoi parlare dei tuoi figli tutto il tempo e sii sempre grata, ma ricorda che il sistema è truccato, quindi trova il modo di riconoscerlo essendo sempre grata». Grazie a te. Numero 2, Elisa Novello, un pensiero per te. Prego, 30 secondi. «Buonasera a tutti, questa sera ci tenevo a parlare a proposito di tutte quelle ragazze che purtroppo al giorno d'oggi si sentono in difetto, perché purtroppo viviamo in una società fatta di stereotipi, e una ragazza si sente in difetto se ha una taglia in più o qualche centimetro in meno. Spero nel mio futuro di trovare una società cambiata, diversa, con meno stereotipi, meno pregiudizi, ma soprattutto con più rispetto reciproco. Grazie». Grazie a te. Chiara Correntella numero 3. Ah, bisogna chiamare qui il nostro Nicolò. Nicolò Pacenza, eccolo il nostro ballerino, perché lei ha espresso il desiderio di ballare una baciata. Prego. Bravi entrambi. Siamo arrivati al momento clou della serata, quindi signori giurati, vedremo le nostre ragazze divise in due gruppi, uno da 8 e il secondo gruppo da 7. Benissimo, loro avranno modo di presentarsi, raccontarsi o farci vedere qualche abilità che le contraddistingue. Signori giurati, come dicevo, qui dovremmo esprimere la propria preferenza e il proprio voto, quindi da 1 a 5 per ciascuna delle loro ragazze. Mi raccomando, è un momento insomma abbastanza difficile per ognuna di loro, sono davvero tanto emozionate, quindi tutti gli occhi puntati su di loro. Siamo pronti? Pronte. Ricominciamo con Daniela, tedesco numero 1, sogna nel cassetto, diventare attrice, motto della vita, se puoi sognarlo, puoi farlo. Antonia Sottile numero 2, sogna nel cassetto, diventare una professoressa di lettere, motto della vita, non smettere di credere nei tuoi sogni, anche quando sembrano lontani. Numero 3, Giorgia Perciavalle. Sogna nel cassetto, lavorare a contatto con i bambini e magari aprire un asilo nido, tutto suo, motto della vita, sei tutti i limiti che superi. Anna Maria Andronache numero 4, sogna nel cassetto, realizzarmi in ambito lavorativo e avere una vita serena ed equilibrata. Motto della vita, vivi e lascia vivere. Numero 5, Gaia Francesca Malagrinò, sogna nel cassetto, realizzarsi professionalmente, e personalmente, motto della vita, il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Francesca Comanda numero 6, sogna nel cassetto, diventare una piscologa per aiutare le persone in difficoltà, motto della vita, finché porterai un sogno nel cuore, non perderei mai il senso della vita. E con il numero 7 arriva Martina Nisi, sogna nel cassetto, diventare una brava commerciadista, motto della vita, quando realizzi quanto vali non sarai tu a perdere, ma gli altri a perdere tu. Sara Centofanti numero 8, sogna nel cassetto, diventare una modella, motto della vita, vivere e sorridere per le piccole cose che la vita ti offre. La vita, vedi senza pelare una pressione diạ! e si chiude così il primo gruppo arriva il microfono per la nostra numero uno che ci racconta qualcosa parla un po' di sé la nostra Daniela Tedesco buonasera a tutti questa sera vorrei portarvi un piccolo pezzettino di me queste qua non sono dei semplici tacchi ma sono delle scarpe da ballo perché ballo tango queste scarpette hanno una peculiarità che le caratterizzano come ogni scarpe da ballo hanno la suola in pelle di bue questo consente di scivolare più facilmente su un pavimento in parquet che di solito noi balliamo su un pavimento in parquet l'uovo comune dice che il tango è un ballo molto passionale quindi io sono molto attenzionata a questo ballo grazie Daniela numero due Antonio Sottile balla modern grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Giorgia Perciavalle con il numero tre porta una bella salsa grazie a tutti grazie a tutti Grazie Giorgia, numero 4 Anna Maria Andronachi e Balla Modern Grazie mille, numero 5 Gaia Francesca Malagrinò, lei ci racconta qualcosa Buonasera a tutti, questa sera volevo citare il titolo di un libro, ovvero se sembra impossibile allora puoi farlo raggiungiamo i nostri obiettivi affrontando con il sorriso, ostacoli e paure questo è il libro dell'atleta Bebevio che a 11 anni venne colpita da una forte meningite che la portò a perdere sia entrambe le gambe e entrambe le braccia ma nonostante questo non si fermò appunto davanti a questa grande perdita, bensì diventò campionessa dei mondiali e scrisse questo libro appunto per lanciare questo messaggio di non arrendersi mai per raggiungere quelli che sono i nostri grazie, numero 6 Francesca Comandè, per lei un ballo salsa Grazie mille, 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 gra Numero 7, Martina Nisi ci esprime un suo pensiero Buonasera a tutti, io vorrei introdurre un discorso per me molto importante ovvero quello di essere sempre se stessi soprattutto in queste circostanze anche quando si è consapevoli di essere le persone esigenti e complicate ma sono questo tipo di caratteristiche che ci rendono delle persone uniche motivo per il quale mai indietreggiare per nessuno e essere sempre sicure di se stessi Grazie Grazie a te Numero 8, Sara Centofanti ci parla della sua passione Buonasera a tutti, purtroppo la pavimentazione non mi permette di mostrarvi il mio talento questa potrebbe sembrare a tutti una semplice palata a basket ma per me è molto di più, è stato il mezzo che mi ha portata dentro un mondo meraviglioso ovvero quello dei bambini sono un'istruttrice e una giocatrice di basket ed è proprio questo sport che mi ha trasmesso dei valori veramente bellissimi credere sempre in me stessa, superare i propri limiti e non mollare mai ma soprattutto è questo sport che mi regala ogni giorno il sorriso dei miei splendidi bambini grazie Grazie a te Allora questo è il primo gruppo di aspiranti Miss Sport Givova Calabria 2023 prego ragazze potete accomodarvi dietro i nostri giurati intanto stanno prendendo appunti stanno votando perché insomma il momento è quello più importante della serata e noi continuiamo, andiamo avanti e arriva la nostra numero 9 Elisa Suppa sognano il cassetto, diventare una ricercatrice, motto della vita fai oggi ciò che gli altri sognano di fare domani numero 10 Maria Serena Fiore sognano il cassetto, laurearmi di informazione scientifica del farmaco motto della vita non smettere mai di sorridere perché un giorno senza sorriso è un giorno perso numero 11 Serena Verterame, sogno nel cassetto, lavorare con i bambini motto della vita, fai della tua vita un sogno, ti un sogno una realtà grazie a tutti Cristal Berlingeri numero 12 sogno nel cassetto, far parte del mondo del giornalismo e del cinema motto della vita, l'importante non è essere ma sentirsi all'altezza numero 13 dice Anna Chiappetta, sogno nel cassetto realizzarmi in ambito lavorativo e personale cercando di godere di tutto ciò che la vita ha di bello da offrire motto della vita, tu sei il tuo unico limite motto della vita, tu sei il tuo unico limite di successo motto della vita, punta sempre più in alto numero 15 Grace Melody Lento, sogno nel cassetto diventare una modella da passerella motto della vita, piccoli passi, grandi risultati punto della vita, piccoli passi, chiama la vita, punti e chiama la vita, ti unico limite di successo gruppo ricominciamo subito appunto dalla numero 9 Elisa Suppa che ci porta un pensiero personale buonasera a tutti questa sera volevo parlare di un argomento che mi sta molto a cuore che è quello della salute mentale oggi se ne parla sempre di più e questa è una cosa molto importante e volevo lanciare un appello soprattutto ai giovani chiedete aiuto quando vi serve perché chiedere aiuto non è una debolezza ma anzi è una prova di coraggio grazie mille grazie Elisa numero 10 Maria Serena Chiore un pensiero anche per noi buonasera a tutti questa sera volevo esprimere un mio pensiero che è la pazienza e la virtù dei forti purtroppo nella mia generazione questa cosa sta un po' svanendo perché siamo abituati ad avere tutto e subito anche per esempio per raggiungere un obiettivo ci perdiamo d'animo subito e non ci mettiamo determinazione pertanto bisogna sapere attendere senza la frenesia contemporanea grazie numero 11 Serena Verterame lei ci porta una citazione fai della tua vita un sogno ed un sogno la realtà ho portato questa citazione perché mi risvecchia oggi sono qui su questo palco per una mia sfida personale per dimostrare a me stessa che nonostante i miei difetti riesco a realizzare i miei sogni grazie grazie a te numero 12 Crystal Berlingeri Balla grazie a te numero 12 grazie a te numero 13 Anna Chiappetta Balla Moderno grazie a te numero 12 grazie a te numero 14 Ilaria Logullo un discorso buonasera a tutti sono Ilaria e stasera vorrei parlarvi di un tema che ho a cuore ovvero quello della sicurezza in se stessi ricollegandomi ad una frase di Oscar Wilde cioè nessuno può essere libero cercando di essere qualcun altro ricordatevi che esistono diversi tipi di bellezza ma quella che ci contraddistingue realmente è la bellezza interiore perciò siate liberi di essere voi stessi grazie grazie a te numero 15 Grace Melody Lento Balla Moderno grazie a te numero 15 Grace Melody Lento Balla grazie a te numero 15 Grace Melody Lento Balla grazie Grace e questo è il secondo gruppo di ragazze che può accomodarsi dietro le quinte grazie mille ragazze intanto presidente di giurie segretario mi raccomando che le schede siano tutte compilate e firmate se siamo pronti le ragazze sono già rientrate dietro le quinte quindi noi pubblico le accogliamo nuovamente con un grandissimo applauso tutte le aspiranti mi sporgi vava Calabria 2023 con il serpettone grazie mille grazie mille grazie mille grazie a te numero 105 il mio presidente è prontissimo da questa parte ci sono i due ritardatari perché sono stati concentrati fino all'ultimo uno ha finito l'altro c'è quasi però intanto io volevo andare da Francesco De Rosis e gli porto il microfono così volevo chiedere anche a lui se c'è stata una preferita da subito prego ce l'abbiamo fatta con le schede quindi possono accomodarsi nel frattempo io chiedevo appunto una preferita da subito o qualche indecisione fino all'ultimo c'è stata no c'è stata più di un'indecisione fino all'ultimo volevo fare i complimenti alle ragazze perché hanno la forza, la capacità e la volontà di mettersi in gioco e in discussione come diceva prima Francesco è qualcosa che va al di là di tutto e che è bello mettere e lanciare il cuore oltre l'ostacolo e andarlo poi a riprendere nonché volevo salutare tutto il pubblico e ringraziare per la partecipazione perché è bello vedere una serata così piena di pubblico che dà come dice Patrizia Miligliani la possibilità di uno show perché dà a tutti quanti noi la possibilità di vivere delle serate delle emozioni ricche di gusto e di professionalità e professionismo che vediamo e poi complimenti all'associazione Laghi di Siberi perché così come in questi giorni è stata dedicata a Iole Santelli la nostra compianta ex governatrice regionale il porto turistico dei Laghi di Siberi permettono di far sì che questo grazie permettono di far sì che questo sia un posto come diceva prima anche Alessandro Mauro un posto che può dare a tutti la possibilità di far conoscere la nostra Calabria la nostra terra e di fare in modo tale che veniamo conosciuti in tutta Italia e in tutto il mondo perché è davvero un posto unico quindi come diceva anche Dostoevsky la bellezza salverà il mondo speriamo che così sia e Miss Italia in questo e all'avanguardia grazie grazie un bello sponsor complimenti grazie sembra quasi uno slogan lo possiamo assumere per le prossime 300 tappe anche perché lui è diventato un giurato capito? sì sì attento assiduo partecipativo sì allora Gian Domenico Morello buonasera in veste di giurato come è andata? è la mia seconda volta oggi più difficile nella prima perché comunque è una fascia importante l'asticella si è alzata però ce l'abbiamo fatta anche stavolta una preferita o più preferite? più preferite però abbiamo le idee chiare bene vedremo bravo Gian Domenico passiamo alla sinistra Antonio Iannicelli lei è ormai storico giurato per le nostre tappe e non solo abbiamo avuto modo di sentirle di presentarsi di parlare con noi che cosa si sente di consigliare dopo averle ascoltate? allora prima di tutto di credere in loro stesse e di non fermarsi mai al primo ostacolo di sognare perché è molto bello sognare e di lottare per raggiungere i loro sogni bene grazie che bel consiglio grazie mille Vittorio Caputo buonasera lei prima volta in giuria seconda volta terza prima prima e come è andata? benissimo benissimo si è divertito? tantissimo faccio i complimenti alle ragazze si è parlato di coraggio effettivamente ci vuole coraggio però alle volte in Italia vengono criticati i giovani invece io penso che il futuro è nelle loro mani e vanno incentivati perché hanno le capacità per cambiare questa meravigliosa terra il secondo momento quando le ragazze hanno avuto modo di raccontarsi o di farsi insomma di mettersi in mostra diversamente ha confermato il suo primo giudizio o ha cambiato qualcosa? beh ha cambiato qualcosa devo dire la verità sì 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 poi quel ecco mettersi in gioco mettere poi dire la loro sicuramente ha valorizzato poi alcune ragazze quindi mi ha fatto cambiare idea in alcuni casi bene bene grazie mille complimenti a tutti grazie Giuseppe Pirillo intanto come ogni sera voto ai parrucchieri di stasera 10 più bravo ormai è imparato è imparato perché noi ti bacchettiamo assolutamente sì è come ogni cosa io dico che le ragazze stasera devono essere grate hanno un dono bellissimo che è la bellezza quando alla bellezza si aggiunge la grazia lo stile è tutto un mix e quindi stasera abbiamo goduto di tutto questo io naturalmente mi occupo di capelli credetemi non è facile acconciare 15, 16, 18 ragazze in un lasso di tempo in un lasso di tempo breve poi mettici che in mezzo ci siamo pure io e linda assolutamente sì e quindi tutto questo il merito va ai parrucchieri fra mesi che ci stanno seguendo in questa maratona di Miss Italia che ci stiamo anche divertendo soprattutto divertendo e per loro è abbastanza importante perché si spostano da località da gioiosa Ioni da Nicotera un po' ovunque quindi un grazie a Framesi un grazie un grazie a loro un grazie a tutti voi e a voi soprattutto grazie grazie mille allora possiamo intanto ritirare i microfoni perché si avvicina un momento importantissimo e quindi dallo staff abbiamo la nostra la nostra tutto fare perché non è solo una ballerina la nostra assistente grazie Mare Elenia grazie mille e nel frattempo e Linda ci facciamo da parte perché c'è un altro momento della nostra storia era il 1990 presidente di giuria Maurizio Costanzo fu la sua proposta subito accettata di eliminare dal regolamento il requisito delle misure 90-60-90 e fu una svolta tante altre novità negli anni successivi entrarono nel regolamento del concorso ragazze ragazze mi sentite c'è area di novità cambiamento cioè da quest'anno per partecipare al Miss Italia non servirà più avere le misure 90-60-90 no va bene non ci credo così così ognuna di noi potrà partecipare questa sì che è la notizia grazie alle nostre ragazze che si sono messe in gioco per raccontare questa storia che ancora non è finita vieni birichino vieni che devi ritirare una cosa io sono un po' ansianotta non ce la faccio sai non è un bel vedere vedere che annaspo per raccogliere il tuo punto interrogativo no ha il codice a barre barra punto interrogativo grazie a Gian Domenico e io proseguo con i ringraziamenti ringraziamo infine i nostri main sponsor quindi a tutto uno legge a breve e lungo termine Lavanderie Londrin di Fabrizio Provenzano qualità cortesia e professionalità nel settore arrende S Design di Angelo Scorzo creatività professionalità cura ed attenzione dettagli il partner ideale per la tua comunicazione Top Call società di consulenza informatica nata dall'esperienza pluriannale di un gruppo di professionisti che operano danni nel settore dell'information technology infine Belmonte trasloche a Zumpano il vero valore aggiunto dell'azienda risiede nel suo team quindi grazie a tutti i nostri sponsor e partner e come sappiamo il palco di Miss Italia non è solo bellezza ma è tantissima arte a 360 gradi questa sera abbiamo l'onore di ospitare un meraviglioso trio che ogni tanto viene a farci visita dalla passione nata per la musica di Michele Mirabelli Anna Francesca Ripoli e Domenico Sposato nascono ufficialmente nel gennaio del 2011 Free Love le loro voci si fondono in una sola con miscele di rock blues e pop lirico ed è tramite lo studio l'amicizia che li unisce la passione che le accomuna che i tre prendono consapevolezza dell'alchimia che esiste tra le loro voci i Free Love vantano partecipazione a svariati concorsi e festival nazionali piazzandosi sempre nei primi posti ed iniziano già dai primi anni a creare brani inediti sperimentando sonorità diverse dando vita a variture ospitate televisive opening act di concerti e di artisti e il panorama nazionale quale Anna Tatangelo il Cile Ivana Spagna il Reduci poi insomma qualche giorno fa qua vicino dall'apertura del concerto di Irama nel dicembre del 2016 esce una raccolta di canzoni natalizie Free Christmas Love nel 2017 sono impegnati nelle registrazioni del talent nazionale dei coach nell'estate del 2018 esce Travez inedito nato dalla collaborazione con il rapper Digg e Pica nel 2019 esce su tutti i digital store il loro nuovo brano estivo Mordieva nel 2021 MOBA la sperimentazione del loro sound non si ferma e continua e a dicembre nello stesso anno escono con il loro nuovo album Aspirina e poi ancora Mi è per davvero mi tocca ispirata alla vicenda di Roberta Lanzino il loro è costante la voglia di fare di promuovere la loro musica e di farsi strada nel mercato discografico del momento sui loro canali social possiamo ascoltare diverse cover di brani che qualcosa ci anticiperanno già stasera quindi un grandissimo applauso ai Free Love Grazie 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 Passa l'estate, passa l'inverno, passano le stagioni Ma tu rimani negli scaffali, trovo le tue chiavi Come lo fai, come ci sei, riuscito ancora A farmi bere l'ultima goccia di veleno Ora Se tu lo colo trovo un approccio, strappo quel foglio ancora Le tue parole come non troppo, faccio un'altra volta Ma chi ne si, ma chi vuol, lascia questa casa L'ultimo drink ancora, questa notte sola Mi fai male, 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 male da morire Mi fai male, 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 male da impazzire Voglio smettere di respirare, la mia immagine sarà virale Un mitocra, un mitocra Stiamo attendo alla mia testa manovressa La comprensione di una vita tutta persa Il sicurezzo nell'essere diverso E più ci penso, più sono me stesso Ma tanto non ci sto più La vita è solo un tabù Tre, quattro whisky e un po' di rum E se mi fottego il cubo pregiore, il cario non ascolti per ore La gamba scelto e tocco il sudore, sensità voglio sentire il sudore Il ballo puoi farlo tu, decidi son che di giù Andiamo in alto per non tornare Mi fai male, 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 male da morire Mi fai male, 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 male da impazzire Voglio smettere di respirare, la mia immagine sarà virale Un mitocra, un mitocra Mi fai male, 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 male da morire Mi fai male, 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 male da impazzire Voglio smettere di respirare, la mia immagine sarà virale Un mitocra, un mitocra Dio come sto, il cuore è comunque in piedi Dio come sto, a dire di me, pensa a te E parli, parli, mi fussurri Ora sei solo mia, lascia questa bocca Un mitocra Mi fai male, 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 male da morire Mi fai male, 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 male da impazzire Voglio smettere di respirare, la mia immagine sarà virale Un mitocra, un mitocra Mi fai male, 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 male da morire Mi fai male, 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 male da impazzire Voglio smettere di respirare, domani sarò virale Un mitocra, un mitocra Buonasera Buonasera a tutti Allora, noi siamo i Freelove Siamo Vabbè, ci ha già fatto una grandissima presentazione Sì, volevo dire i nomi, non li diciamo mai Quindi Domenico Michele E Anna Francesca Se lo potevamo dire da sola Allora, noi, il prossimo pezzo che andiamo a farvi ascoltare È una cover In un brano un po' datato, così si suol dire Dovreste, vorremmo che la cantaste Un po' tutti Quindi, provate a cantarla con noi Secondo me la conoscete tutti Quindi vediamo un attimo Ma ci siete Ci fate sentire un applauso Ok, vai Dai Tu, sei che tanto, se che penso a se dovremmi e non gli augurio Ho viso in alto di chi il mondo sfida Ho viso l'odore di fame Ho viso solo un po' di chiude Che ne in piedi un uomo con un sì Anima mia, è una casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia, è una casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia, è una casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia, è una casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia, è una casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Esatto, questo brano fa parte di un progetto che stiamo creando da qualche mese a questa parte con la rivisitazione di alcuni brani un po' datati, un po' vintage. Quindi se volete ascoltare questo o altri brani... Sì, li trovate comunque su tutti i digital store, sui nostri social, sui nostri social. Quali sono i nostri social? Ricordalo. Allora, se ci volete aggiungere, non lo so, se non avete nulla da fare... Fatelo. Io Freelove su Instagram e Freelove su Facebook. Brava. Ok. Ci promuoviamo, dai. Il prossimo pezzo è un pezzo nostro, scritto qualche estate fa, e quindi speriamo vi piaccia. Con le mani tutti, su, su! Voglio credere a qualcosa, forse un po' di più Di frasi a metà non ne posso più Su che mi scrivi andare, sono andato a lavorare Felicità è un gusto che non perdo mai Diremo pure ad Eva, che un morso alla mela Ti cambia la carriera ora Di Eva E lasciami ballare tutta l'antate Quando il sole sale sento E a voi sentire il cambiamento Sotto una luna nuova Da una finestra suona La musica che fa Adesso aiutateci tutti con le mani Sivari E a voi sentire il cambiamento Sotto una luna nuova Da una finestra suona La musica che fa Adesso aiutateci tutti con le mani Sivari E a voi sentire il cambiamento Sotto una luna nuova E a voi sentire il cambiamento il sole sale e sento, e puoi sentire il cambio lento, sotto una luna nuova, da una finestra suona, la musica che fa. Grazie, 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 grazie ragazzi, arriviamo a voi, ma quanta bellezza questa sera, la bellezza oltre alle ragazze la fate voi. Grazie, troppo buona, è la verità, è la verità, è la bellezza e poi indichi solo lei, ti ringrazio, sei un'amica, sei un'amica, hai indicato entrambe, parlavo al plurale. Vabbè facciamo un applauso a queste presentatrici però, un po' più forte, sappiamo che insomma non è facile, però voi siete veramente, vista l'età, rettarda, visto le scale. Più che altro sono i tempi di recupero un po' lenti perché noi facendo una serata dietro l'altro insomma a una certa età recuperiamo un po' lenta. C'è una signora che grida qualcosa. Grazie, grazie, signora, lei avrà un posto d'onore a tutte le nostre serate, grazie. Ah, pensavo lei adesso avrà una visita gratuita da un oculista, però va bene lo stesso. Vogliamo la signora nostra motivatrice, è importante. Bene, che ci racconti? Ma allora, noi ci tornevamo comunque a ringraziare, perché insomma è una delle poche Kermess, questa, che oltre a promuovere la bellezza, promuove anche quella che è la musica calabrese, la musica locale. Quindi grazie veramente perché noi qui ci sentiamo a casa e con voi è una famiglia. Ogni anno vi veniamo a trovare con piacere. Anche per noi è un piacere aver visto, che è stato difficilissimo riuscire ad incastrare gli impegni, però insomma ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Anche quest'anno. Grazie ancora una volta a tutti. Ciao, ciao. Noi abbiamo le buste. Ecco, eccole, ce l'abbiamo qui. Noi non abbiamo sbirciato, però siamo bravi. No, io sì, però dovremmo ufficializzarlo, quindi direi di accogliere con un grandissimo applauso le nostre 15 aspiranti Miss Sport Calabria Givova 2023. Grazie. 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 Grazie a tutti. ci emozionerà Miss Italia un sogno è realtà ci emozionerà Miss Italia Miss Italia ed ecco le schierate le nostre ragazze Linda noi ci facciamo spazio grazie ancora al corpo di ballo io parlavo con i due ragazzi attori perché hanno fatto un po' di furore quindi mi stavo informando per sapere se fossero impegnati o meno insomma l'età abbiamo rovinato la piazza d'Andrea De Jacopo ragazzi ma loro sono giovani direi che sono più vicino all'età delle nostre Miss bene ben per loro meno per Andrea che dobbiamo fare Andrea ormai è rassegnato direi che se è arrivato lo potremmo chiamare non Andrea lo chiamiamo Istancabile e inarrestabile Carmelo Ambraccio scalzo stasera scalzo mia moglie ha dimenticato le scarpe no no le tue scarpe ci sono anche i fantasmini quindi non è problema mio ormai è moda è moda sì buonasera a tutti grazie per veramente la bellissima accoglienza un'altra bellissima finale regionale a breve sapremo chi ha vinto voglio ringraziare personalmente un amico una persona veramente che ci ha voluti fortemente qui adesso fra poco lo sentiremo il presidente dell'associazione L'Agridi Sibari Luigi Guaragna fra poco lo sentiamo quindi lo voglio ringraziare di cuore spero che speriamo per tutti ma anche per lui sia stata una bella serata quindi ci auguriamo che insomma il pubblico l'abbia gradita i nostri telespettatori che sono stati anche stasera tantissimi voglio ringraziare di cuore tutti i giurati non lo faccio singolarmente faccio uno in particolare stasera perché è venuto da molto lontano il nostro amico Alessandro che condivide con me la passione per la viola ci sono anche tanti amici insomma qui in vacanza e quindi li voglio ringraziare c'è anche mia sorella stasera l'ho vista la salutiamo hai salutato la famiglia io ti voglio dire che c'è anche tua figlia dietro le quinte dico che tra poco arrivo volevo fare una sorpresa sì ma stasera siamo contenti perché la piccolina è a casa e la salutiamo è venuta a trovarci con la cucinetta con la cucinetta sole verrà anche sul palco fra poco sì lo so è già pronta niente l'abbiamo fatta troppo lunga io ringrazio tutti quindi continuate a seguirci perché Miss Italia continua continua sì continua praticamente tutte le sere fino al 26 di agosto quindi mi raccomando se non potete seguirci fisicamente fisicamente seguiteci sui social o sulle repliche su 10 avete dato l'appuntamento poi per la superfinale? ancora no ne abbiamo parlato prima del 26 ad Oreolo con Elisabetta Gregoraci Marco Masini quindi tantissimi super ospiti non saranno i soli ma sveliamo soltanto questi due per ora molto bene molto bene allora spieghiamo cosa succederà adesso chiameremo le prime tre classificate in ordine sparso e quindi non in ordine di classifica dopodiché proclameremo appunto dalla terza la prima classificata vogliamo leggere subito Miss Social? vediamo se il nostro ufficio stampa Denise Umbriaco è pronta buonasera a tutti questa sera la vincitrice è la numero uno Daniela Tedesco complimenti la nostra Daniela che si fa una passerella complimenti Daniela quindi la nostra Miss Social della serata non ci si sbacciucchia nei momenti istituzionali e allora chiamo a raggiungerci sul palco la numero sette Martina Nisi la numero tre Giorgia Perciavalle e infine la numero otto Sara Centofanti venite più al centro ragazzi loro sono le tre prime classificate che si contenderanno stasera la fascia di Miss Sport Calabria Givaba 2023 però facciamo un grandissimo applauso a tutte le ragazze che non sono qui al centro insieme a noi abbiamo lo dico sempre ma è la verità abbiamo ancora tantissime tappe quindi ragazze non interrompete il vostro sogno c'è ancora tempo detto questo chiamiamo la terza classificata terza classificata a Miss Sport Givaba Calabria e la numero sette Martina Nisi complimenti Martina Cassarella e ora facciamo entrare esatto il presidente Luigi Guaragna che ci raggiunge intanto entrano fascia e corona e anche i gadget Givaba ecco Viola che fa la palletta stasera si avvicina anche Marianna Marianna Carbone che ci aiuterà poi nell'incoronazione eccolo che arriva sta arrivando l'ho visto l'ho visto arriva il microfono ce l'abbiamo per lui un applauso grazie mille grazie per l'accoglienza buonasera benvenuto arriva il microfono arriva subito il microfono per lei eccolo qui allora grazie a nome di tutta l'organizzazione di Miss Italia Calabria a nome di Carmelo mettiamo la favore si raggiunga il centro palco grazie per tutto quello che avete fatto per noi so che lei davvero si è speso instancabilmente affinché tutto questo potesse avvenire stasera grazie a voi buonasera popolo dei laghi di Sibari credo che abbiamo regalato una bella serata fatta di tanta bellezza ritengo che dopo circa 20 anni ritorna la bellezza dei laghi di Sibari da 20 anni mancava questo appuntamento un appuntamento importante e passo dopo passo abbiamo creato le condizioni per un cartellone estivo da paura ritengo e questa sono anche emozionato scusatemi perché è tutta scusatemi dicevo grazie Carmelo per questa serata sono io che devo ringraziare sono io che devo ringraziare te quindi grazie veramente di cuore ritorna la bellezza ai laghi di Sibari ritornano le vele ai laghi di Sibari perché sentivo dire prima a Francesco dell'apertura e dell'inaugurazione del porto canale a Diole Sandelli a cui va il mio applauso è quello di tutti quanti ritengo che è una tappa importante questa di Miss Italia grazie veramente a tutti di cuore grazie mille ancora a lei a nome di tutti quanti noi ha fatto da padrone l'emozione stasera scusatemi ancora è bello così è bello noi consegniamo la corona al nostro presidente allora si mette avanti vicino a Miss Calabria uscente così appena e leggeremo la nuova Miss Calabria e Miss io sono già proiettata a Miss Calabria la nuova Miss Sport o Givova Calabria 2023 ti ricordo che da oggi alle elezioni di Miss Calabria ci sono almeno 75 tappe sì sì lo so io ogni giorno mi sveglio e dico ah oggi ne abbiamo 13 poi ci penso e dico no ancora è lunga ma noi siamo felici ovviamente di continuare questo nostro viaggio dalla regia partiamo con la suspense Miss Sport Givova Calabria 2023 è la numero 8 Sara 100 quanti come vedi a Sara Pasqua e Sorona per lei Pasqua vai passarei la nuova Miss Sport Givova Calabria 2023 grazie ragazze passarelle anche per la nostra seconda classificata 1-3 scelta personale complimenti anche a Giorgia e noi vi diamo appuntamento ci sono i fiori per la nostra Miss che arrivano intanto Linda dove diamo appuntamento domani? domani saremo a Sansosti il 15 a Bisignano il 16 a Campana 17 a Bova 18 a Mormanno 19 a Malpito 20 che dà aiuto dalla regia Lorico San Giovanni in Fiore 21 a Tropea 22 a Lungro 24 saremo di nuovo da queste parti al villaggio Airone che si trova a Corigliano Rossano e il 26 vi aspettiamo per la nostra finalissima per l'elezione di Fiori per la nostra Miss Sporgi Nuova Calabria 2023 mi auguro che i laghi di Sibari ti possono portare tanta fortuna complimenti a te ma complimenti alle 15 bellezze che questa sera avete regalato veramente uno spettacolo immenso non solo di tanta bellezza ma anche di tanto spettacolo di tanta musica grazie anche ai Free Love che ho scoperto stasera come d'altro canto ritengo che tanta gente che non conoscevano i laghi di Sibari stasera per la prima volta siete venuti a visitare questa location spettacolare e quindi da questo punto di vista questa è una targa è la stampa del centro nautico laghi di Sibari che va a colui il quale guida la Kermess di Miss Italia Calabria grazie ancora e speriamo di rivederci l'anno prossimo in questa magnifica location noi ringraziamo tutta la squadra di Miss Italia Calabria ringraziamenti a Super Litta Suriano alla fantastica Litta per piuttosto grazie a tutti buonanotte mi ritorni in mente le telefonate ore ad aspettare poi mi dà occupato perché chiami anche tu bolle di sapone sotto il tuo balcone e mi piace tanto tanto quando mi annoia e tu mi fai la disco paradise e tu mi fai